Nessun dubbio a Casalbuono sulla scelta dei cittadini a chi affidare la guida del comune. Carmine Adinolfi ha stracciato l'avversario del nuovo sindaco di Casalbuono subentrando ad Attilio Romano, alla guida del centro valdianese per tre legislature, mantenendo il gradimento della comunità che lo ha premiato con 129 preferenze, risultando il più votato. 596 voti ottenuti dalla lista Uniti per Casalbuono per Adinolfi sindaco, mentre alla compagine sfidante della lista per Casalbuono con candidato sindaco Francesco Romano, le preferenze si sono fermate a 163 voti. Ora si guarda al futuro e lo si fa nel segno della continuità, ma anche nel segno del rinnovamento, puntare quindi a proseguire nel percorso già intrapreso, ma allo stesso tempo dare spazio e forza alle novità e ai volti nuovi, come spiegato dal neoprimo cittadino Carmine Adinolfi. Nella nostra lista, che in realtà si è rinomata per otto undicesimi, in Consiglio Comunale saremo sette consiglieri, con due soltanto consiglieri uscenti e il resto tutti i nuovi consiglieri, oltre a me ovviamente sono il nuovo sindaco. Vogliamo portare avanti il progetto e il programma della vecchia amministrazione e alcune sono già in esecuzione in questo momento. Noi veramente siamo orgogliosi di essere anche in continuità e cerchiamo di portare anche qualche innovazione, perché siamo diversi e vogliamo cercare anche nuove strade e veramente anche con il vecchio sindaco che è il Consiglio Comunale con noi siamo orientati verso questo tipo di politica. Da subito ci concentriamo su alcuni progetti che sono già in base di esecuzione. Abbiamo un progetto di opera pubblica che sta già in attività, dobbiamo riqualificare il centro storico, e abbiamo già la gara di appalto in corso e dobbiamo subito dopo partire con l'appalto per riqualificare il palazzo baronale e sul quale noi puntiamo molto perché non deve essere soltanto un'opera pubblica ma deve portare sviluppo a casa al buono e faremo in modo che poi può essere un volano vero per portare nuove attività a casa al buono, economiche, per investimenti di vario tipo, anche culturali ovviamente. Cosa vuole dire ai suoi concittadini? Ringrazio innanzitutto perché un consenso così ampio non ce l'aspettavamo. Questo ci porta ovviamente a essere molto più responsabili e anche molto più impegnati nel cercare di risolvere i loro problemi e faremo di tutto perché veramente possono essere soddisfatte le loro esigenze. È una grande fiducia che però noi cercheremo di non tradire. A sostenere il sindaco Adinolfi in consiglio per la maggioranza entrano oltre al sindaco usciante Attilio Romano, più eletto, anche Rosa Maria Ferrara con 72 voti, Esther Bianculli con 63 preferenze ottenute, quindi Giovanni Menta 51, Giuseppe Loguercio 48, Giuseppe Ponzo 43 e Antonio Curcio 40. Per l'opposizione entrano in consiglio Francesco Romano, candidato sindaco della lista per casa al buono, Massimo Pace e Biagio Mango.